Adesso andiamo a Torino dove Confindustria celebra i 110 anni dell'Associazione. Per noi c'era Gabriele Flamma. Senza una visione del paese non si recupera la fiducia necessaria per la crescita e il benessere. Alla cerimonia per i 110 anni di Confindustria, il presidente Boccia sottolinea il ruolo dell'Associazione, un attore sociale che aiuta il governo con proposte di ampio respiro. Poi ricorda come la storia di Confindustria sia legata a quella dell'Europa, siamo europei di nazionalità italiana, dice. E commenta l'attualità dalla Brexit, occasione per attrarre gli investitori che lasciano il Regno Unito, agli ultimi dati sul PIL, meno 0,3% a fine 2019, risultato peggiore del previsto. Che segnale è? Cosa cambia per le prospettive di crescita quest'anno? È un segnale che da tempo stiamo indicando, dati previsionali che rallentano una necessità di reazione. sia in chiave italiana che in chiave europea. Tra l'altro anche i dati che vengono dalla Cina ci dicono che ci potrebbe essere un rallentamento per cause cosiddette esterne e a maggior ragione dobbiamo agire su tre grandi assi a nostro avviso che sono infrastrutture, formazione con un grande piano di inclusione giovani e semplificazione. Le parole del presidente Boccia sono anche una sorta di bilancio di fine mandato che terminerà a maggio. Grazie. 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 Grazie.